Da oggi fino al 22 agosto l'Italia verrà colpita dalla terza ondata di calore dell'estate 2023. La colpa è dell'anticiclone africano Nerone che porta di nuovo le temperature intorno ai 35 gradi. E a Cremona, la città in cui negli ultimi anni sono state abbattute moltissime piante, i 35 gradi si toccano già nelle auto parcheggiate nelle zone d'ombra. Le chiedo quanti gradi ci sono nella sua auto? 35. E' stata parcheggiata al sole o all'ombra? All'ombra qui adesso. Gli alberi portano ossigeno, portano, tagliando gli alberi, l'ombra... Il calore si sente? Il calore si sente, sì. Nel momento era l'ombra, però di solito quando si sta il sole si sentono intorno ai 36-38 gradi. Meno fortunati coloro che lavorano o vivono nelle zone ormai prive di piante o con nuovi fusti non mantenuti a dovere. Sarebbe più importante averli per la natura che per l'ombra, per le macchine, comunque è meglio averli per quello. Però sicuramente contribuiscono a abbassare? Se riescono a fare l'ombra, io nel mio quartiere ce li abbiamo nella via e li sfruttiamo, però sarebbe meglio averne un po' di più. Non si tagliano gli alberi, cioè la natura va rispettata, comunque tenuta. E loro ti prendono per il culo facendo quello che vogliono, quindi costruendo aceri e tagliando boschi, cementando. Se vuoi fare una cosa nuova fai un bel parco, una piscina, con delle piante, cioè di robe ce ne sono già abbastanza. Dopo si lamentano che il clima cambia, insomma. Io sono spavorevole al fatto che restino le piante, che ce ne sono di nuove, che siano manutenzionate e tutto. Il petto in veginalia, cioè siamo andati in una giungla, vanno comunque manutenzionate, tenute. Anche dopo cascono in testa e ti dicono, eh, bisogna tagliarle. Che sono fondamentali perché portano ossigeno e fanno ombra, tutto qui. Cosa ne pensa del fatto che ne abbiano tagliati così tanti? Magari servirebbe un po' di manutenzione per quello che resta? Sicuramente la manutenzione va fatta e si vede che non è eseguita in maniera corretta. Questo è evidente. L'attenzione è orientata a quello che fa comodo a loro e non al cittadino. Per loro il cittadino non è l'ultima cosa, non esiste nemmeno.